Noi come FabLab abbiamo scelto di occuparci di ausili per i disabili. È una cosa che abbiamo valutato essere molto interessante dal punto di vista della possibilità di hackeraggio perché comunque richiede spesso purtroppo forti personalizzazioni e quindi come FabLab ci divertiamo a smanettare su qualunque cosa ci propongano i familiari delle persone bisognose e in più sappiamo anche che quello che poi andiamo a pubblicare può essere potenzialmente utile anche in tutto quanto il mondo fondamentalmente. Abbiamo fatto questa scelta che ci ha dato molta soddisfazione e in più non ha per nulla inficiato su quello che è le attività normali del FabLab per cui non facciamo solamente ausili per i disabili ma facciamo tutte le attività tipiche che si fanno nei FabLab e per coloro che vogliono partecipare a progetti speciali facciamo serate dedicate. Spesso è capitato che poi nel parlare e quando le persone si incontrano erano venuti mai nel FabLab per parlare di droni e scoprono che in realtà noi stiamo facendo un visore oculare per un bambino e si interessano e poi iniziano a lavorare effettivamente a questo tipo di progetti quindi anche loro si trovano a cimentarsi in cose che magari inizialmente non sapevano nemmeno esistere. Uno degli ausili che abbiamo progettato probabilmente è quello che potremmo definire di punta è un sistema di riconoscimento oculare che abbiamo progettato per un bambino di 8 anni che per una malattia che si chiama SMA1 è immobilizzato a letto alla possibilità di comunicare solamente utilizzando gli occhi e questo limitava molto la sua comunicatività tranne anche con il familiare ovviamente però con gli altri bambini o anche semplicemente le sue possibilità di scelta di quello che sono ciò che lui voleva fare magari non sempre era esprimibile o non sempre veniva compreso. Noi abbiamo fatto in modo che lui possa tramite un sensore oculare pezzato sul suo lettino e comandare dei dispositivi ad infrarosso muovendo gli occhi facendo delle sorte di gesture e far traslare il suo lettino in modo che mantenendo la sicurezza e quindi non andando in giro per casa ma rimanendo sul posto lui comunque possa scegliere di voltarsi e guardare le persone che stanno parlando in completa autonomia e quindi gli abbiamo dato una possibilità molto importante di decidere cosa fare del suo tempo. Vorrei suggerire agli altri Fab Lab di provare a contattare associazioni della loro zona che magari hanno, sono associazioni magari che trattano coi disabili e associazioni di familiari e proporsi come persone informate delle nuove tecnologie anche perché spesso le persone che hanno delle problematiche in casa non hanno molto tempo per guardarsi fuori ed aprirsi alle nuove tecnologie e si basano su quello che è già standardizzato ed è già perfettamente conosciuto dai medici e perdono delle occasioni invece piccole ma importanti di qualcuno che può usare di più per dare quel qualcosa in più che potrebbe fare la differenza. I Fab Lab in questo caso secondo me potrebbero fare quel qualcosa in più traendo un'enorme soddisfazione. Grazie